Sessore, oggi in conferenza stampa presentate gli appuntamenti sportivi, gli eventi sportivi della città di Montesilvano che si terranno nei prossimi mesi e anche quelli del Paladin Martini. Siamo molto soddisfatti oggi in realtà di poter presentare anche con discreto anticipo quelli che saranno tutti gli eventi, hai detto bene, non solo sportivi ma anche di intrattenimento legati al Paladin Martini che ospiteremo, in realtà che abbiamo già iniziato ad ospitare perché il cartellone Sport & Fan, lo abbiamo chiamato è partito già dai primi di aprile, abbiamo già ospitato due tappe del campionato nazionale di rotellistica con la federazione FISR è terminato ieri il trofeo sterrare umano che ha visto oltre 200 motociclisti enduro provenienti da tutta Italia a girare per l'Abruzzo con sede a Montesilvano, ne abbiamo avuti già diversi e continueranno fino a dicembre perché per il cartellone che andiamo a presentare questa mattina interesserà le città di Montesilvano fino alla fine dell'anno ospiteremo tantissimi eventi di intrattenimento per quello che riguarda la parte congressuale al Paladin Martini e altrettanti di livello anche internazionale perché tra settembre e ottobre ad esempio ospiteremo campionati europei di pugilato under 16, campionati europei di pallavolo maschile under 20 e ad ottobre anche i campionati europei di calcio a 5 per sordi quindi diciamo che gli appuntamenti sono tantissimi e sono assolutamente di prestigio quest'anno siamo stati davvero bravi, me lo dico da solo diciamo che quello del turismo sportivo probabilmente è il veicolo più veloce, efficace ed immediato per riuscire a raggiungere numeri importanti per quello che riguarda le presenze turistiche sul territorio noi ci stiamo puntando molto come amministrazione e fortunatamente con discreto successo poi abbiamo un percorso che abbiamo iniziato già da qualche anno quindi adesso iniziamo a raccogliere frutti però anche confrontandoci con gli albergatori i numeri che gli eventi sportivi e congressuali stanno raggiungendo sono numeri importanti anche rispetto alla necessità di destagionalizzare l'offerta turistica quindi da questo punto di vista anche molto bene grazie grazie grazie